Un caro saluto da Gianluca Rossi, amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Inter Spezia 3 a 0, scaricate naturalmente se volete altri dettagli gratuitamente dal link in descrizione l'app numero 10 dove trovate altri particolari, come sempre, al di là del mio video editoriale, però insomma ve lo dico subito, sono contento. Sono contento per il risultato rotondo, perché avevamo bisogno anche di un clean sheet, per la collaborazione fondamentale che ho visto tra gli attaccanti. Sono contento perché ogni volta che segna Gianluca bisogna essere contenti. Sono contento per il primo gol, apparecchiato in maniera meravigliosa da Lukaku per Lautaro. E soprattutto, visto che gli attaccanti, ha spiegato Inzaghi, dovranno girare, indipendentemente da chi comincia e chi subentra, mi è piaciuta molto anche l'azione del 3 a 0. Lancio di Gagliardini, sempre vituperato da voi, un lancio di 40 metri. Una cosa meravigliosa del professor Dzeko, che è coi piedi, insomma, sappiamo che non è, magari il suo problema è la velocità, ma non sono certi i piedi, che ha girato Dragoschi e ha apparecchiato per il Tuku Correa, che sapete che è uno che aspetto. Dopo l'anno scorso lo tengo d'occhio. E però anche Correa, gol facile, apparecchiato da Dzeko, ma intanto parti subito con l'esordio a San Siro, insomma, in questo modo, in cui vedi gli attaccanti collaborare così bene. E quindi sono molto contento, sono molto contento perché Andanovic è stato virtualmente senza voto, perché la difesa ha funzionato anche nella fase, insomma, di non possesso, dove ogni tanto ci addormentiamo. È vero che potevamo capitalizzare di più subito, però, su via, ragazzi. Quando le cose vanno... È vero che Brozovic sicuramente non è stato brillantissimo. Magari anche Barella, io ho sempre delle grandi attese, naturalmente, da quelli più bravi. Però poi Barella ha preparato lui il primo gol, se non ricordo male, o comunque poi, insomma, ha fatto quella sgroppata di 40 metri nel finale per portare palla agli attaccanti. Insomma, quindi, anche Lautaro come assistman a un certo punto per Dunfris, che è arrivato davanti a Dragoschi e il gol se l'è mangiato, e la traversa di testa di Lukaku, e un'altra conclusione di Lautaro fuori di un niente. Insomma, ragazzi, quando le cose vanno bene, non dobbiamo, già io ogni volta ho questi Mortimer, no? Come lo chiamo io, che stanno qua sempre a preconizzarvi scenari devastanti. Questo è stato un fine settimana, ragazzi, fantastico. Poi c'è chi vuole perdere tempo. È incredibile perché, cioè, le notizie, insomma, di questi giorni sono, Skriniar, che devo fidarmi, insomma, no? Voglio dire adesso, devo fidarmi per forza. A dieci giorni dalla fine, in più c'è la parea con la Lazio, in più il 30 con la cremanese, cioè non ci sarebbe neanche il tempo tecnico, anche se so già che fra due giorni da Parigi mi diranno che è arrivata una nuova offerta per Skriniar. Ma Skriniar, applauditissimo, è stato virtualmente tolto dal mercato e sapete che cosa vi dico? Mi sta passando anche un po' la nieniera per Bremer, eh? Dopo aver visto i quattro attaccanti, quella per Dybala io non ce l'ho mai avuta, ve l'ho sempre detto. Adesso mi sta passando anche un po' la delusione per Bremer, per vedere che il mio Skriniar è ancora qui e che tra l'altro, voglio dire, oggi avevo detto scherzando sui social, pensate se Skriniar che verrà applauditissimo, immagino, come se fosse un nuovo acquisto, no? In certi versi potrebbe anche esserlo. Dal pubblico di San Sirio dovesse segnare, ma non sono andato molto lontano, perché nel gol di Cialanoglu, quello del raddoppio, nella ripresa, c'è Skriniar che con un colpo di tacco crea un rimpallo, Skriniar in area, eh? Skriniar in area, voglio dire, dello spezia, quindi molto offensivo. Suo colpo di tacco crea una piccola carambola sulla quale poi è bravo Cialanoglu. Sono contento, ragazzi. Quando c'è da essere contenti bisogna dirlo. Bisogna dirlo, sono entrati tutti bene, poi avremo tempo, naturalmente, di giudicare Aslani, di giudicare gli altri, però prendiamo già gli attaccanti, perché poi le partite si vincono con gli attaccanti, con tanti gol, anche se ne abbiamo fatti 84 l'anno scorso, migliore attacco per distacco e non è bastato. Per questo sono particolarmente contento se cominciano ad aumentare i clean sheet, anche perché, insomma, prendevamo sempre gol anche in precampionato. Devo dire che zero rischi corsi con lo spezia, anche nella fase, insomma, più delicata, lo ha spiegato in Zaghi di non possesso, in cui ogni tanto noi facciamo qualche dormita. Anche stasera ogni tanto ero lì, insomma, io voglio essere ogni tanto come tutti voi, mi piacerebbe la perfezione, poi razionalmente so che non è possibile, soprattutto ad agosto. Però ecco il dato di due attaccanti che alla fine si fanno assist e gol tra loro, è una cosa importante, credetemi, è una cosa molto importante. Stagione scorsa migliore attacco, 84 gol non è bastato, ora se aggiungi Lukaku dovresti farne anche di più, però come vi sto dicendo, spiegando, dobbiamo avere sempre equilibrio. Verranno anche le partite da vincere magari di misura, certamente, perché non è che può far testo adesso Inter-Spezia 3-0, anche se, l'ho detto prima, il dato del pubblico continua a ripeterlo e lo ridico anche adesso, anche se l'ho già detto varie volte, 71.212 paganti per Inter-Spezia il 20 di agosto, 71.212 è un dato meraviglioso, è un dato incredibile dell'amore, malgrado la proprietà sia quella che sia gente che perde tempo ancora e via questo e non voglio accermi, ma godetevi, ma godetevi questo fenomeno straordinario di amore interista che vediamo, c'è il 71.212, sapete che io l'ho già detto e lo ripeto, io li bacerei uno per uno tutti, sulla fronte agli uomini, sulla bocca alle donne, perché è una dimostrazione di amore straordinaria da parte dei tifosi veri, non di quelli che perdono tempo per farsi notare scrivendo una minchiata dietro l'altra, e bisogna ascoltare tutti, dice qualcuno, errore, l'Inter non è per tutti, continua a ripetere, le anche Gianluca Rossi non è per tutti, la libertà di scrivere qualsiasi baccata, di ognuno finisce dove comincia la mia, di scegliere i tifosi che amo, e questi 71.212 mi danno una dimostrazione di amore incredibile, e quindi ragazzi, bisogna essere contenti, la partita era semplice, però se mi avessero detto come vuoi che sia questa partita, avrei indicato probabilmente questo punteggio, e probabilmente questa tranquillità, perché non c'è mai stato un attimo, in cui al di là che ogni tanto giustamente si frenava, magari all'inizio si è caduti troppe volte nella trappola del fuorigioco, però era la partita che volevo io in Traspezia, era questa partita che volevo, nel risultato, nel gioco, nelle combinazioni tenendo presente ragazzi che è il 20 di agosto, e che quindi da qui in avanti possiamo solo migliorare. Adesso avremo la Lazio venerdì, che sarà ovviamente un banco di prova più difficile, in trasferta come ce l'ha il Milan, perché sono curioso anche di vedere gli altri, il Milan ha la partita più difficile della giornata, con l'Atalanta, però io vi dico, quando si può essere contenti, e credo che veramente per questo Inter Spezia 3 a 0, si possa e si debba essere contenti, bene, ragazzi, siate contenti, viva l'Inter, e alla prossima faremo le pagelle, intereremo nel dettaglio, intanto, bella serata, bella serata, si era lo Spezia, d'accordo, sono sicuro che arriveranno anche le belle serate, con squadre più importanti, ciao a tutti.